SACRIFICIO 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 il mondo negro, te llevo, te bendiga papi Salve la TV Regan Mayer, io sono il più chiamato della nuova Sì, siamo qui direttamente da Ponce in la casa Siamo in Bayagüez Guayama, la casa, Guayama, Vanilla Ice Guarda come facciamo questo Non ho mai detto una parola, non ho detto che di qui Oh io? Capi, devi fare un rilassare Capito, devi fare un rilassare Capito, devi fare un rilassare, ti ho detto Te lo diciamo di una altra forma Lo tolgo a ripetare due volte Maquiabélico, legendario E' una altra cosa Qu'hai visto? Qu'viensene la qua qua qui C'è un po' qui qua qui Qu'è questo? Qu'è questo? Qu'è questa è una feria? Qu'è questo? Qu'è questo? Qu'è il rilassare? Qu'è il rilassare Viva la storia! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.